darci la possibilità di capire tutti insieme che cosa volete sensibilizzare e proporre so che siete già stati a Lugano, siete stati a Marstagno, con la nostra Marstagno quindi vi siete già fatti conoscere quest'anno in Ticino ma ecco, se c'è qualcosa, volentieri siamo tutti interessati a conoscere La nostra associazione promuove lo sport e lo promuove per tutti e quindi per promuoverlo per tutti ci si è compagno a Vicenza noi abbiamo la fortuna di poter partecipare tanto a questi atleti e ci piace di farlo in maniera molto ronata Scusa, scusate Grazie mille, grazie, un applauso